Buongiorno, sono Daniele Fontani, web developer di Sintra Consulting. Vorrei presentarvi il caso di successo di Aboka, che ha applicato le tecnologie Web 2.0 alle learning. Cos'è il Web 2.0? Con Web 2.0 si intende il processo che ha trasformato Internet da mezzo di sola consultazione a strumento di interazione. Comunemente associato ai social network per l'intrattenimento giovanile come Facebook, YouTube, Twitter. Nella realtà aziendale invece il Web 2.0 costituisce una nuova risorsa, una nuova opportunità per creare nuovi business contenendo i costi. Questo è il caso di Aboka, Apoteca Natura, che ha applicato le tecnologie Web 2.0 nel campo dell'e-learning. Sfruttando il Web 2.0, Aboka intendeva creare un social network a scopo formativo per i propri partner commerciali, farmacisti, erboristi, creando così una rete distributiva qualificata per la vendita e il supporto dei prodotti, denominata Apoteca Natura. Come sempre gli obiettivi del progetto sono stati quelli di individuare e soddisfare le necessità del cliente. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici sono state individuate varie necessità. Prima di tutto fornire una formazione adeguata e facilitare il costante aggiornamento del farmacista. Offrire, se necessario, un supporto personalizzato. Rendere l'apprendimento verificabile e misurabile tramite la compilazione di questionari e test online. Evitare il ricorso di spendiosi corsi di formazioni territoriali face-to-face. e permettere l'interazione tra i partner. Ovviamente per soddisfare i criteri base del concetto di Web 2.0 ci sono stati imposti dei vincoli grafici, ovvero che il sito fosse di facile consultazione che permettesse una navigazione facile e intuitiva e che stimolasse e incentivasse l'uso del sito. Sintra Consulting ha adottato tecnologie atte a garantire l'affidabilità, la sicurezza, la compatibilità del sito su più piattaforme e su più browser. Questo tramite l'utilizzo di AspNet su motore database Microsoft SQL Server per garantire l'affidabilità delle prestazioni a ricorso agli standard di programmazione più elevati questo per garantire bassi costi di manutenzione e agevolare i tempi di sviluppo. L'utilizzo di un server dedicato per far fronte all'ampia base di utenza e per migliorare le prestazioni del sito. Soluzione Ajax per rendere più interattivo il sito e per eliminare i vari tempi di attesa tra le pagine. La grafica, come già detto, rispetta i vincoli del Web 2.0 e si ispira ai social network già presenti sul mercato per sfruttare le experience già acquisite dagli utenti. Il sito risulta intuitivo ed usabile permettendo un apprendimento piacevole e tale da stimolare il farmacista a continuare il suo percorso formativo. Il raggiungimento dei traguardi al conseguimento di un certo numero di crediti formativi denominati petali formativi incentiva l'utente a partecipare in maniera attiva e continuativa. Molta importanza assumono la possibilità di contattare agevolmente i tuteli aziendali per ottenere feedback sia sui prodotti che sui rapporti aziendali nonché la consultazione di report commerciali per tenere sempre sotto controllo i rapporti che si hanno tra cliente e fornitore. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.